Mi vuoi raccontare qualcosa? Il tema principale del libro non è altro quello che avevo già dichiarato alle Iene, cioè che ci sono dei poteri forti che hanno strumentalizzato la crisi per togliere la sovranità al popolo italiano. Questo è quello che io avevo denunciato in quel servizio e che non è mai andato in un'altra. Quindi parto dalla mia esperienza per raccontare che i media sono complici di questa sottrazione di sovranità che il popolo italiano sta subendo.